lavori in corso sì e beh violetta canta balla aspetta che sto facendo questo video vediamo un po qui che c'è a comune di roma concessione edilizia assistente direttore di cantiere impianto trasporta ulteriori ma che che ci fanno ma questo è quello che vogliono costruire è quel progetto di boeri o di qualcun altro a questo lampione è spedito ci devono costruire qui forse che dici questa è piazza dei navigatori lo sai che una volta come si chiamava vedi piazza navigatori eccola lì questi che sono le andri sì sembra che siano le andri bisogna essere davvero l'arrivo Grazie.